Il contesto di riferimento ha una parola chiave, la parola chiave è biomassa per utilizzo elettrico. Adesso spiegheremo bene che cosa intendiamo con questo. Le biomasse ad uso elettrico sono una nicchia di mercato in questo Paese che ha un potenziale di crescita molto significativo, tenuto conto del nostro territorio, è una nicchia che è cresciuta recentemente in maniera significativa grazie agli incentivi. Incentivi che però stanno cambiando, sono cambiati come sapete e che a questo punto richiedono un approccio più specialistico, più attento rispetto al passato. Vediamo di capire brevemente di che parliamo. Questa è l'agenda di oggi, noi tratteremo quindi i primi due punti e poi sarà il Presidente Vecchioni a raccontarci più nel dettaglio l'esperienza imprenditoriale. Allora, parliamo di energie rinnovabili, quindi di tutto ciò che non è fossile. Le energie rinnovabili, come sapete, ce ne sono alcune di tipo moderno, chiamiamola così, e alcune invece che sono storiche. Allora, escludiamo dal campo tutte le energie rinnovabili che riguardano lo sfruttamento idroelettrico, perché quelle sono sfruttate già da oltre un secolo. Parliamo di quelle moderne. Bene, cosa rappresentano queste energie rinnovabili per il nostro Paese? Circa il 13% della generazione elettrica, della produzione elettrica. Sono 37 terawatt, ricordo che i terawatt sono migliaia di miliardi di watt, e come vedete sono rappresentate per un terzo dall'eolico, per un terzo dal solare, il 15% del geotermico e questo 29% di bioenergie. Bioenergie sono una componente delle rinnovabili, valgono circa il 30% delle rinnovabili e circa il 4% della produzione elettrica nazionale. Sono sostanzialmente fatte dei due mondi, i rifiuti e gli oli vegetali, e dall'altra parte le biomasse agroforestali e i liquami. Per le biomasse agroforestali noi sostanzialmente individuiamo gli scarti legnosi forestali, gli scarti agricoli e delle aziende alimentari, i liquami e le colture energetiche. Vengono utilizzati questi prodotti, quindi questi prodotti biologici, in due modi per produrre l'energia, o bruciati direttamente, quindi generando l'energia che poi viene immessa nella rete, oppure attraverso digestori, attraverso degli impianti che consentono la generazione di biogas, questo viene bruciato e quindi l'energia prodotta anche questa è inserita in rete. In particolare queste biomasse rappresentano solo 4 terawatt dei 300 circa che vengono utilizzati in Italia tutti gli anni, un per cento, quindi una parte molto piccola. Questo 4% se vogliamo dargli una dimensione europea e quindi un confronto europeo, è poco, non abbiamo dati 2011 come è il caso di questa slide, dobbiamo utilizzare i dati che abbiamo, i dati europei di confronto sono dati del 2009, dove vedete che l'Italia si posiziona a un 2,9% rispetto al 4 del 2011, che comunque è un dato inferiore rispetto alla media europea. È circa la metà di quello che utilizza la Spagna e circa un terzo di quello che fanno altri grandi paesi come la Francia e la Germania, superiore nell'ambito dei grandi paesi soltanto al Regno Unito. Lontanissimo ovviamente dall'utilizzo di biomasse che fanno paesi come la Svezia e la Finlandia, dove vedete, parliamo di dieci volte tanto quello che fa l'Italia. Ovviamente questo però non è soltanto un tema di scelta di un paese, anche dipende dalla conformazione del territorio e dalla popolazione. in Finlandia ci sono 5 milioni di abitanti, noi ne abbiamo 60 milioni, quindi la componente rifiuti delle biomasse ovviamente per noi è 12 volte superiore a quella finlandese. Tuttavia poi c'è anche un tema di territorio, di quanto questo territorio è disponibile per l'utilizzo agricolo e quindi capite che questi sono conti molto sofisticati. Fortunatamente non abbiamo dovuto farli noi, li fa l'Europa e l'Europa che cosa dice? Dice che nonostante che quindi l'Italia abbia un utilizzo di biomasse ai fini di produzione dell'energia molto limitato, il suo potenziale è molto alto. L'Italia si classifica al secondo posto in Europa come potenzialità di utilizzo di biomasse per questi scoppi, è il 13%, seconda solo la Germania e quindi qui c'è un combinato disposto sia di parte rifiuti che di parte di biomasse vere e proprie. Tra l'altro l'Europa ha fatto questi conti e tenuto conto di una crescita sostenibile dell'utilizzo delle biomasse, quindi ovviamente tenuto conto del fatto di problemi come la cementificazione o la desertificazione o la deforestazione. Parlando in particolare di quelle biomasse ma esclusivamente quelle di origine agricola la nicchia ha avuto un andamento, uno sviluppo nel corso degli ultimi anni come quello illustrato nelle slide, quindi siamo passati dai 2,6 gigawatt di energia prodotta ai 4,3 del 2011, il numero e la potenza degli impianti sono quelli illustrati quindi abbiamo avuto una crescita significativa, ancorché limitata, molti di questi impianti sono per una autoproduzione di energia elettrica da parte di singoli operatori, non esiste un'industria ancora vera e propria e direi che questo è uno degli scopi invece che Terra si prefigge come sentiremo tra poco. Certamente la crescita di questi impianti sia in termini di numerosità che di potenza installata è dovuto alla presenza di incentivi, incentivi che come sapete dalla primavera di quest'anno sono cambiati, l'attuazione sarà dal primo di gennaio dell'anno prossimo, vediamo una carrellata di come sono fatti questi nuovi incentivi e quindi quali sono i requirements per aggiudicarseli e quali differenze fondamentali rispetto al passato. Direi, la prima cosa importante da dire è che c'è l'introduzione ai contingenti, come sapete quindi non sarà più qualsiasi livello di potenza e qualsiasi impianto accettato per il solo fatto che utilizza la biomasse, ma ci sono dei contingenti e quindi un cap all'interno del quale muoversi. Naturalmente figlio del concetto che esistono i contingenti ci sarà un registro, un registro all'interno del quale le proposte verranno sostanzialmente introdotte, al termine della dorata utile dell'iscrizione verrà fatta una classificazione, una graduatoria e chi diciamo così avrà passato le forche caudine in questi registri potrà avere la possibilità quindi dell'allaccio e della titolarità degli incentivi. Vengono premiati impianti di piccola dimensione, ecco qui c'è già un concetto che introduce il tema della minigenerazione diffusa sul territorio che stabilisce quindi impianti di piccole dimensioni, eliminazione della tariffa unica 2,80 che sarà sostituita da una tariffa base più bassa più alcuni premi, vedremo qualche esempio numerico, per ciò che riguarda invece il settore bietticolo saccarifico c'è un trattamento speciale che esce dai canoni molto serrati dei nuovi incentivi. Una cosa interessante è l'introduzione della potenza soglia per fonte rinnovabile, c'è una potenza soglia al di sotto della quale vale il registro e vale le tariffe di cui parleremo tra poco, sopra questa potenza soglia invece valgono le aste al ribasso, quindi diciamo un mondo più complicato. La potenza soglia è 5 MW per le biomasse e per l'eolico, 10 MW quindi il doppio per l'idroelettico e addirittura 20 MW per il geotermico. Sotto questa potenza soglia, qui è illustrato dalla slide in maniera evidente, la componente incentivata nell'ambito dei contingenti più significativa è proprio quella delle bioenergie. Quindi le bioenergie sotto la soglia sono la parte di fonti rinnovabili più incentivate nell'ambito del nuovo decreto. Una cosa, uno zoom veloce sul tema degli incentivi, delle priorità che il registro definisce, in realtà sono molto più di 4 i requisiti, però abbiamo messo soltanto i primi. La cosa interessante è vedere i primi due, guardate il primo, impianti a biomasse e biogas, a sottoprodotti, significa quindi non culture primarie ma scarti, culture dedicate, di proprietà di aziende agricole e con potenza fino a 600 kW. Quindi vedete com'è puntuale il nuovo decreto, come va a selezionare soltanto alcuni specifici tipologie di investimenti, certo non solo questi, ma questi sono privilegiati. Ma il numero due troviamo impianti a biomasse e biogas a sottoprodotti, quindi non c'è più il limite di potenza, non c'è il fatto che deve appartenere a un'azienda agricola, ma comunque parliamo di biomassa e di biogas, eccetera. Un ultimo commento, prima di passare la parola al mio collega, sul tema delle tariffe. Si dice che il nuovo decreto ha tagliato gli incentivi, mediamente si parla di un taglio del 30%, è vero, sicuramente c'è questo elemento, però non possiamo fare tutta un'erba a un fascio. Per esempio, biogas, allora il confronto col 280, lo vediamo qua, si parte da un incentivo, da una tariffa base che è 2,36, quindi non lontanissima dal 280, ma si può arrivare a 2,86, quindi a un passo da quella che era la tariffa precedente, purché si possa contare, quindi il proprio impianto possa contare su due punti, la cogenerazione e il premio dell'azoto. Nel caso delle biomasse, l'incentivo massimo ottenibile additura va oltre 2,80, perché partiamo da, lo vedete qua, da una tariffa base di 257, ma con gli incentivi che sono di nuovo la cogenerazione, la possibilità di aggancio e di allaccio col terri riscaldamento e una componente di emissioni che al di sotto di una certa soglia è premiante, si può addirittura arrivare a 327, quindi andare oltre i 2,80. Allora, cosa vogliamo dire qui? Che, come sempre, quando poi il decreto di questi incentivi rinnovabili è molto complicato, molto articolato e complesso, quindi un conto è darne una sintesi, diciamo così, molto rapida, il che dà ingiustizia rispetto invece a determinati elementi, un conto è andare su elementi molto più puntuali laddove chi intende fare un certo tipo di mestiere può non solo cogliere le opportunità di prima, ma addirittura migliori. È indubbia una cosa, e direi questo è il punto finale prima di passare la parola, che il mestiere, diciamo così, di generazione elettrica con biomassa diventa un mestiere più per specialisti, quindi più per operatori che, diciamo così, sanno interpretare anche il tema degli incentivi in maniera molto puntuale, molto chiave, molto specifica e su questa base costruire il loro successo.